Allora, Sindaco, sull'ipotesi della realizzazione della discarica di Allumiere, questa mattina in conferenza stampa insomma ha ribadito le posizioni del Comune che sono molto chiare, netta contrarietà. Assolutamente netta contrarietà a che sia fatta nella nostra zona. Innanzitutto perché loro hanno già una proposta su Roma di fare una nuova discarica ai Monti dell'Ortaccia. Approvino quella e si tengano la discarica in casa loro. Uno. Due. Siccome puntano tanto invece all'area nostra, in questo caso utilizzando l'area militare, mi viene il sospetto che sia il cavallo di Troia per continuare a perseguire il progetto di bruciare dentro Torre Nord o Torre Sud il CDR. Noi siamo assolutamente contrari anche su questo. Noi abbiamo scelto un sistema di trattamento rifiuti senza combustione perché delle combustioni siamo stufi. Ecco, la questione comunque andrà affrontata insieme anche agli altri Comuni interessati. Lei ha lanciato l'ipotesi appunto di un incontro per attivare una sinergia anche su altri temi. Il 21 noi facciamo una riunione di sindaci del territorio con all'ordine del giorno una discussione libera in materia di sanità e quindi ospedali, in materia di rifiuti, in materia d'acqua. Senta Sindaco, l'altra questione toccata questa mattina è quella dei parcheggi blu. Diciamo due erano le criticità, la questione relativa appunto ai residenti delle zone interessate e il parcheggio dell'ospedale. Come avete deciso di affrontare queste due situazioni? Noi abbiamo risolto tutti i problemi. Quello dei cittadini perché abbiamo fatto le fasce orarie, quella di mezza giornata dalle 13 alle 16, 16.30, la vediamo, dove non si paga niente. e poi l'altra fascia oraria è dalle 19.30 fino alla mattina alle 8, dove non si paga niente. Quindi chi è residente può benissimo parcheggiare. Sull'ospedale? Sull'ospedale ho fatto la scelta di parcheggio gratuito, però chiarimento nuovo e quello non può essere il parcheggio dei dipendenti dell'ospedale o dei medici dell'ospedale. Manderò una lettera al direttore generale nella quale lo invito a predisporre aree di parcheggio all'interno della cinta ospedaliera per i dipendenti dell'ospedale. Quello deve essere il parcheggio gratuito con disco orario per i cittadini che vanno a trovarli ammalati. Grazie a tutti.